Aurelia non è pronto per sapere certe cose. A me però me le dici. Tu non sei come tuo fratello. Aspati, io ti sto a far crescere per farti diventare un capo. Pischello era e pischello sei rimasto. Ma le chiede per me su una panna cessa. Marchelli Gabriele? Sì, che ti serve? Via fuori. Lo sai che sto io, sì? Secondo me c'è 24 ore di tempo per portarmeli i sordi. Hai capito? Ma non mi va manco di più a ordine. Senti, mi serve una mano, sto nella merda. Chiudiamo le famiglie e se ripiamo la vita nostra. Daglie. Daglie. Però ma non si governa. Al massimo si amministra. Non si fermano davanti a niente. Tutta Roma è zona mia. Attento a far scoppiare la guerra. La perdi. Mi voglio ammazzare tutti. Che cazzo hai fatto? La soppurra. Mi voglio ammazzare tutti. Mi voglio ammazzare tutti. Curi. Ti stai. Spuno è stata la sua. La manca non si parla. Grazie a tutti.